Non è ancora accertato che l'antisemitismo sia il movente, ma l'omicidio della presidentessa di una sinagoga di Detroit mette in allerta la comunità ebraica negli Stati Uniti. Samantha Wall, 40 anni, è stata trovata senza vita in una pozza di sangue fuori da casa. Il killer l'ha coltellata più riprese, secondo quanto dichiarato dalla polizia. Il sindaco di Detroit, Duggan, ha detto che la morte della presidentessa lascia un vuoto enorme nella comunità, ricordando che solo poche settimane fa avevano celebrato insieme la fine dei lavori della sinagoga.